Presidente Sospiri, lo svincolo di Pescara Sud, Porto, presto potrebbe vedere la luce? No, certamente vedrà la luce. Dopo 20 anni di attese, comunque vanno ringraziati gli amministratori e i politici che nel corso dei 20 anni precedenti a noi hanno portato a casa queste idee e queste risorse economiche. Parliamo di 20 milioni di euro e rischiamo di essere perse perché giustamente l'Alas si era stufata di attendere con tante emergenze che ha in giro per l'Italia e che non abbiamo rimodulato progettualmente e avendo rimodulato progettualmente questa opera, queste due opere, siamo riusciti a salvare il finanziamento perché abbiamo trovato l'equilibrio giusto. Allungheremo l'asse attrezzato perché noi crediamo che il nostro porto riqualificato tornerà un porto da grandi movimentazioni anche turistiche. Allungando l'asse attrezzato riqualificeremo la Golena Sud, via Andrea Doria, il primo tratto di Lungomare Cristoforo Colombo. Più avanti, dietro la Pineta Lannunziana, andrà a terra il cosiddetto svincolo a trombetta, cioè questo detrattore inutilizzato dell'asse attrezzato. Questo ci permetterà non solo di togliere un detrattore ambientale ma di rimmaginare la riqualificazione di quella viabilità, poter unire terzo e quarto comparto della Pineta perché realizzeremo una via Pantini in grado di sopportare il traffico e quindi dare alla città di Pescara un altro pezzo di grande Pineta Lannunziana. Sono opere molto importanti che disegnano in buona parte Pescara Porta Nuova, su cui abbiamo tanto lavorato per non perdere questi finanziamenti. Adesso come Regione abbiamo fatto tutto, voglio ringraziare la struttura regionale dei lavori pubblici, il direttore primavera, il sottosegretario di Annuntis, il compartimento Anas Abruzzo che è stato estremamente disponibile al paziente. Adesso il Comune di Pescara deve passare ai fatti.